e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora praticamente vagavo su internet e ho trovato questo winter baros un survival alternativo con protagonista un delizioso topolino sì sono stati un sacco gli annunci di grandi videogiochi in questo ultimo periodo e ovviamente un'opera del genere è finita per passare un pochino in sordina parliamo di un survival così che cazzo vuol dire un survival rilassante per tutti coloro che non sanno una parola di inglese gli sviluppatori paradossalmente vogliono trasformare un'esperienza che dovrebbe essere ansiogena in qualcosa di chill ovvero di rilassante come detto saremo un bellissimo e puccioso topolino scopriremo a malincuore che ciò che un tempo chiamavamo casa si è tramutata in una tana abbandonata da tempo il piccolo rifugio è al buio i mobili si sono rotti quasi tutti e si muore dal freddo fuori dalla porta infatti domina un paesaggio coperto da neve segno inconfutabile di uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni non certo la situazione migliore a cui far ritorno dopo un'assenza piuttosto prolungata nel tempo queste sono le premesse e tra l'altro la zia è scomparsa beh praticamente le premesse per una tragedia ci sono tutte se tutto questo non bastasse beh ci sta la neve e il freddo infatti vestito di pochi stracci il nostro amico può resistere solo un paio di minuti al gelido inverno che abbraccia i dintorni della sua tana quindi dovrete essere bravi a raccogliere tutto quello che serve per sopravvivere nel minor tempo possibile ci sono tutti gli elementi classici del genere quindi potrete craftare che so creare un giacchetto un berretto insomma tutto quello necessario per non crepare male una volta coperti per bene potrete muovervi dalla tana ed esplorare il mondo circostante e ci potremmo imbattere in insetti di merda da uccidere ammazzate con il bastone un cane bisognoso di un caritatevole rifocillamento di cibo e un ponte che andava ricostruito per consentirci di raggiungere la casa della sopracitata sia del protagonista da quello che si vede nella demo il menu è veramente poco chiaro e capire le attività da svolgere per ora è davvero molto arduo cioè snellire il menu magari ci farete ci fareste un grosso piacere grazie mille carissimi emerge quello stile così che vi dicevo beh diciamo che è un pochettino poco rispettato ok emerge pochino gameplay un attimino scontato a prima vista però un gioco secondo me molto divertente se lo trovate ovviamente al prezzo giusto e che come punto di forza ha sicuramente una grafica davvero particolare e originale quindi un applauso sicuramente all'impegno chi non vuole essere un pupino non fate battute mi avete capito insomma questa è la sua patata che vedo da anni fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti il video finisce qui come al solito vi invito iscrivervi al canale lasciare un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanella di notificare non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che saremo live anche su ticket e tocchete per sapere quando saremo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti